Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di RockPolitik. Da quando il coronavirus è entrato a far parte delle nostre vite, ogni giorno utilizziamo dispositivi di sicurezza personale e interpersonale che possono essere le mascherine, i guanti e i gel igienizzanti. Spesso mascherine e guanti sono prodotti monouso, nel senso che noi ogni giorno, ogni due o tre giorni, li utilizziamo e poi li gettiamo. Quando il coronavirus si è avventato nelle nostre vite, circa dieci mesi fa, sono stati prodotti più di 350.000 tonnellate di rifiuti che partono da mascherine fino ai guanti. Dove vanno a finire tutti questi rifiuti? I rifiuti innanzitutto bisogna catalogarli. Ecco, esistono rifiuti pericolosi e rifiuti urbani. Nei rifiuti pericolosi entrano a far parte tutti i dispositivi utilizzati presso gli ospedali e i centri di ricerca medicali. Per rifiuti urbani intendiamo tutti i dispositivi come le mascherine che utilizziamo ogni giorno noi cittadini. Ecco, questi rifiuti, a differenza da quelli pericolosi che abbiamo descritto prima, che fanno parte anche dei dispositivi utilizzati dai soggetti positivi al covid-19, hanno un altro iter. Ecco, quelli pericolosi di solito hanno un altro metodo di raccoglimento e di smaltimento. Quasi tutti vanno a finire poi negli inceneritori. I rifiuti più pericolosi paradossalmente sono quelli urbani, quelli che produciamo ogni giorno noi cittadini. Ecco, la legge dice che noi, nel senso non proprio la legge, perché non c'è proprio una legge in materia, in quanto anche le nostre mascherine che ogni giorno gettiamo nell'indifferenziato sarebbero dovuti essere rifiuti pericolosi. Solo che secondo il decreto rilancio, basato su delle considerazioni fatte dall'Istituto Superiore della Sanità, queste mascherine rientrano in rifiuti urbani. Perché? Perché lo smaltimento sarebbe molto più difficile. Però questo crea un enorme rischio, problema per gli operatori ecologici, perché spesso le mascherie non vengono smaltite come dovrebbero essere smaltite. Come dovrebbero essere smaltite, voi vi chiedete. Dovrebbero essere messe dentro uno o due sacchetti e poi buttati, gettati e indifferenziato. Questo spesso non succede e quindi rappresenta appunto un grandissimo rischio per gli operatori ecologici che ogni giorno passano nella nostra città per raccogliere questi rifiuti. A differenza, come ho detto prima, le mascherine per dei soggetti positivi, dei soggetti positivi al Covid-19 hanno un altro iter. Ovviamente devono essere disposti fuori nei raccoglitori appositi e poi gli operatori ecologici passano già con delle prevenzioni, dei dispositivi un po' più rigidi, un iter un po' più rigido che vengono prelevati e poi, come ho detto prima, portati verso gli inceneritori. Questo perché abbassa tutta la carica virale che posseggono i dispositivi e quindi è il metodo più sicuro, diciamo. Il problema è che nelle nostre città tutto questo accumulo di rifiuti non viene smaltito nel modo corretto. Quindi spesso ci imbattiamo in dei fenomeni veramente sgradevoli, come può essere appunto quello di camminare per le nostre città e trovare delle mascherine per terra. E come spesso è capitato di trovare delle mascherine per terra, cioè oggetti, dispositivi che potrebbero essere contagiosi. Non solo, secondo uno studio di un centro di ricerca belga, le mascherine ci metterbbero 450 anni a decomporsi. Quindi questo non è solo un incredibile danno alla salute pubblica, ma anche un danno ambientale. Ecco, cosa si può fare? Le cose che si potrebbero fare sono molte. Innanzitutto da una sensibilizzazione dei cittadini, perché ovviamente questo fenomeno è dovuto principalmente a un scarso senso civico dei cittadini. Però, come consigliato anche dall'Unione Europea e dall'Istituto Superiore della Sanità, gli enti comunali dovrebbero predisporre nelle loro città dei raccoglitori ecologici. E questo non è mai accaduto, che secondo me è una cosa molto grave, perché non ci sono dei cestini, dei raccoglitori appositi nelle nostre città, dove in caso di necessità si possono buttare, gettare le mascherine a posto di gettarle per terra. Che poi queste mascherine vanno a finire nelle nostre strade e nelle acque della nostra città, che è una cosa secondo me gravissima. Ecco, io vorrei riflettere soprattutto su questo punto, che è il fatto della negligenza della politica anche in questo caso, il fatto che non si siano messi a disposizione dei cittadini nei centri di raccolta per le mascherine e per i dispositivi. Vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata di RockPolitik.